Una persona aveva un tumore al fegato su una cirosi epatica. L'enorme massa tumorale era di ben 5 kg ed era arrivata a riempire l'addome. Una serie di ospitali avevano giudicato il caso come inoperabile. La neoplasia aveva intaccato i vasi sanguigni a livello vitale, rendendo il rischio di un'emorragia letale più che elevato. La persona di 64 anni di età, residente in provincia di Veneste, sembrava non esserci più niente da fare, sembrava doversi dichiarare come spacciata. La svolta aveva arrivata quando si è rivolta all'unità di quarta chirurgia dell'ospedale di Treviso, ubicato in nord Italia. Infatti pensate che il tumore al fegato di ben 5 kg è stato asportato in ospedale e la persona, che ripeto, ha 64 anni di età, è stata dimessa dopo ben 7 giorni. Vi ringrazio per la visione di questo video di oggi, vi ringrazio a Trevisi per il relativo ascolto, sembra quasi essere stato un miracolo per il 64 anni che ha potuto finalmente vivere una vita tranquilla e serena per il fatto che è stato, ripeto, operato e la massa tumorale è stata dimossa. Un saluto ancora a voi, pensate che pesava ben 5 kg la massa tumorale in questione. Al prossimo video da Leandro, una natura italiana.